I Gelsi hanno ritirato la loro disponibilità a fare l'accordo con noi. Il DPCM prevede l'intervento del prefetto, con cui ho già parlato. Dopo il no all'hotel Planet di Rigutino, resta ancora l'incognita del primo albergo sanitario della provincia di Arezzo. È infatti sfumata anche la seconda ipotesi, ossia quella del Residence I Gelsi. Così la direttore generale dell'Asla Toscana Sud-Est Antonio Durzo ha annunciato che chiederà al prefetto di Arezzo di requisire una struttura. C'è una norma dello Stato, una norma primaria, che dice che è il prefetto che deve requisire una struttura alberghiera. Io chiederò al prefetto la requisizione di una struttura alberghiera. Io d'altra parte voglio dire, siamo tutti convinti che è una norma di igiene tenere chi è covid positivo in isolamento. Non si discute. Capisco le reazioni, ma che in questo caso sono diverse dal primo caso, ma indipendentemente da tutto, è necessario garantire la sicurezza tanto di chi è covid negativo, quanto di chi è covid positivo, che non deve trasmettere la malattia agli altri. Io non chiedo la struttura, è una scelta del prefetto. Mi affido al prefetto, è chiaro che poi il nostro Dipartimento di Prevenzione valuterà la solita questione degli impianti di condizionamento, degli scarichi, ormai siete esperti.